Oggi ragazzi vogliamo aggiornarvi sull'offerta attualmente disponibile in casa Wind3, su un piccolo aggiornamento arrivato in casa Wind3 e nello specifico voglio parlarvi della promozione Wind3 Superfibra, una promozione attivabile in maniera completamente gratuita sia per chi passa a Wind3 da un altro gestore sia per chi attiva proprio una nuova linea fissa e nello specifico vi parlo di una promozione dal costo mensile di 24,99€ al mese e che vi va a includere all'interno del prezzo ovviamente la fibra fino a un massimo di 1 gigabit per secondo e poi ovviamente il modem ma in questo caso andranno solo ed esclusivamente poi aggiunti 3€ per quanto riguarda le chiamate ma naturalmente per maggiori informazioni, per dubbi e incomprensioni vi ricordo che trovate tutti i link utili qui sotto in descrizione o comunque qui in basso quindi mi raccomando date un'occhiata e ovviamente come sempre siamo sempre online a vostra compagnia a disposizione quindi basta un clic e ci pensa Zorro.it è un'occhiata